come vedete di luci accese in casa estra per un motivo o per un altro ce ne sono sempre molte inutile che ve lo dica un tempo Giacomo non l'avrebbe presa così bene e non sarebbe bastato nemmeno un gola di stoglierlo dalla fissa del risparmio ve lo assicuro ma ormai è cambiato tutto da quando ha sostituito le vecchie lampadine a incandescenza con quelle a led e pensare che all'inizio era un po' scettico tutto merito di Anna che per convincerla ha giocato d'astuzia voleva dare alla camera un tocco glamour e sapeva bene quali argomenti avrebbero fatto presa sul padre e allora il genietto della matematica si è messa a fare due conti c'è poco da fare passare alle lampadine led conviene consumano meno energia con un risparmio in bolletta dell'80% durano in media 30 volte in più di quella a incandescenza e sono pratiche si accendono subito e non attirano insetti per non parlare della sicurezza non scottano e non contengono sostanze nocive non c'è voluto molto a convincere Giacomo davanti a quei numeri ha scarnato gli occhi certo neanche Anna immaginava tutto questo entusiasmo ma Giacomo d'altronde è fatto così mezz'ora dopo era il più grande fan del led dopo di noi conestra il futuro è oggi grazie a tutti grazie a tutti